Cristina, tu per hai esagerato i fiori, che meraviglia, però non si lanciano così che poi si rovinano Cristina, hai voluto esagerare, no, 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 due cd, uno con Cristina, davvero i tuoi amici in tv naturalmente c'è anche questa canzone e poi c'è anche una parte di questi brani che sono riproposti in chiave dance perché ho scoperto, non lo sapevo, ma ho scoperto che ci sono i ragazzi che amano ballare queste canzoni, è un pochino più ritmate infatti noi abbiamo voluto fare una prova, praticamente abbiamo preso i brani diciamo più famosi tipo Sailor Moon, tipo i Puffi, Licia, Candy e li abbiamo tutti portati in versione dance e abbiamo voluto fare un cd, adesso vedremo che succede beh effettivamente, però so che già vi stanno ballando, grazie grazie a te, ci vediamo dopo naturalmente, tu rimani in nostra compagnia per giocare tutto il pomeriggio facciamo due